ragazzi ragazzi buongiorno oggi abbiamo un nuovo video come vedete e voglio fare una stesa che faccio spesso o almeno facevo spesso sul mio primo canale a niri a tarot dove abbiamo due tre variante allora come sta come sta come vive in questo momento lavorerò con questo mazzo di tarot che voglio dire questo chi può guardare questo video tutti è importante di guardare bene inizio di variante se vi risuona la descrizione perché darò descrizione di chi sei tu e che a lui più o meno la situazione in grosse linee e se ti risuona vai avanti quindi se tu e questa persona non state insieme o state insieme magari tu non semplicemente se lo stai osservando ti piace ma voi siete solo amici conoscente conoscente conoscenti puoi guardare basta che riesce a prendere quello che è tuo guarda bene in inizio la descrizione se descrizione risuona vai avanti capita a volte che sembra che descrizione più o meno quello che sei tu però dentro c'è qualcosa che è dentro proprio non vibra come dico io quindi vuol dire che questo messaggio non è non è tuo non è per te per qualcun altro bisogna diciamo allenare questo muscolo intuito tra le virgolette ovviamente tutto tranne intuito e così riusciremo a capire quale messaggio è nostro e quale no ok detto questo voglio tranquillizzare quelle vibrare energia e poi andiamo nergia anche al mazzo voi rilassatevi semplicemente voi rilassatevi semplicemente andiamo pensa la persona 5 di denaro povertà o non potete parlare o avete dei blocchi nella comunicazione o non comunicazione semplicemente c'è un muro qualcosa tra di voi comunque energia di stessa e tenera distesa e tenera un qualcosa un affetto dolce uomo impegnato sete di spalle oppure semplicemente uomo impegnato con lavoro concentrato molto sul lavoro guardate qua mi sembra che c'è una specie di proibito qua proibito oppure semplicemente non si può dire quello che voglio dire non si può fare quello che non si può insomma non si può voglio ma non si può la papessa può rappresentare un'altra donna oppure potresti essere anche tu questa donna oppure qualcosa nasconde questa persona insomma magari non è molto cattivo ok qua in fondo marzo ce l'abbiamo un sole quindi vi piacete sicuramente con questa carta posso dire di sicuro allora lui chi ha la sua descrizione come persona ha peso meno male già meglio meno male e prima come era ok ok ora ti dico la morte adesso descrivo lui vedo che questa persona questo uomo sta vivendo un periodo di trasformazione la prima cosa che voglio dire la morte adesso sembra che il suo carattere sta cambiando e questo si vede bene prima ha peso lui diciamo che non era molto felice ma parliamo di sfera emotiva rapporto tra lui e donne in generale il rapporto tra lui donne in generale era così lui lui sceglieva idealizzava una donna la amava idealizzava insomma sceglieva lei però non capiva bene il proprio valore perché non lo so o le donne erano complicati che non meritavano lui o qualcosa insomma sembra che lui si sentiva in amore un po svalutato mettiamo così però comunque cercava di dare tutto quindi vedo una persona molto generosa una persona generosa che dava tanto amore a qualcuno alle donne o donna però lui si sentiva in questo tutto come vittima come qualcuno che sta dando e non c'è gratitudine non c'è la stessa cosa da quell'altra parte e quindi di conseguenza si sentiva vittima adesso però io vedo che qualcosa sta cambiando lui si sta liberando e adesso in questo momento lui si sente forse più sicuro di se stesso e si sente più a suo agio nei confronti di donne regina di bastone la voglio la voglio leggere come donna come in generale donna questo è lui e la sua presentazione adesso andiamo a vedere a te attenzione a guarda bene se ti risuona se non risuona non cercare di cambiare cambiare per insomma avete capito spero tu chi sei tu paggio studente si ecco siete simili perché anche tu ce l'hai la morte guardate come simili carte in qualcosa siete molto simile dopo dovrò aprire il diavolo a me mi sembra che tu ti senti una vittima di un'ingiustizia hai avuto qualcosa di triste doloroso parlando di amore non si è stata amata qualcuno non si è comportato come con te come tu meritavi sembra come che tu hai tutte le buona tutta la buona volontà buona intenzione però le persone non riescono non riescono a percepirti capirti per quello che sei però poi vedo questa dilusione in generale con le persone che non ti capiscono per quello che sei di conseguenza forse di conseguenza c'è questo diavolo diavolo e quando persone ti possono percepire con un'area di superiorità io guardando questa stesa posso dire che non si tratta di superiorità forse tu sei semplicemente come dire hai imparato a nascondere la tua fragilità la nascondi così bene che alle fine effetto il contrario pensano che sei fai la superiore però secondo me qua semplicemente tanta fragilità sei venuta regina di coppia in appeso sei una donna altruista una donna che potrebbe aiutare anche sacrificare se stessa per le altre aiutare molto generosa però ce l'abbiamo anche questo diavolo che voglio aprire il tuo caso come che cos'è il tuo passato il tuo passato ti sta disturbando di andare avanti ci sono le paure io vedo che inizialmente tu sei stata una anima pura pulita sognatrice molto 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 pulita insomma tenere energia però questa energia pulita qualcuno ha danneggiato di conseguenza tu ti sei bloccata e sei diventata per te molto difficile di staccare staccare da una situazione di ingiustizia da una situazione sofferente quindi è come per dire che tu puoi tanto tempo pensare a una situazione che non funziona e non riuscire ad andare avanti ti blocchi magari un uomo un ex pensare tanto a un ex a un amore infelice triste qualcosa così ti sta bloccando tanto è una tipo specie di gabbia dentro di te ti sei creata ok questa è la tua discrezione però mi fanno vedere che tu hai l'energia quasi di curandella si dice in italiano hai un'energia curativa di guarigione quindi tu ti puoi guarire e poi guarire gli altri così mi viene ok abbiamo visto se tu ti riconosce vai avanti adesso andiamo a vedere in che energia sta il nostro lui energia di lavoro energia di guadagno molto concentrato su qualcosa di importante pensa attentamente a 9 di denaro pensa attentamente ai progetti di denaro così materiale trasformazione vuole smettere di lavorare duro e portare lavorare tanto vuole smettere di lavorare tanto portare tanto peso alle spalle ma sta pensando a qualcosa nuovo nuovo a un qualcosa che sarà per lui più ideale parlando sempre di lavoro di guadagno di hobby se questo hobby li da guadagno insomma insomma adesso in questo momento dice lasciatemi stare io non voglio parlare a pensare all'amore alle cose così 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 ora voglio essere molto freddo concentrato proprio sul lavoro su questi suoi progetti pensa questa è la sua energia adesso andiamo a vedere nel suo cuore cosa lui porta cosa per l'importante nel cuore 10 di denaro di nuovo che cos'è 3 di colpe la sua famiglia per lui importante la famiglia o chi fa parte della sua famiglia se lui ha bambini figli insomma animale qualcuno che fa parte della sua casa ok questo per lui molto importante vediamo cosa succede nella sua casa di quella che lui parla è rimita nella sua casa lui si sente solo solitudine aprimi solitudine sì lui si sente solo nella sua casa sembra che la sua vita è solo guadagno se lui ha qualcuno non so magari anche tu accompagno lui o un uomo impegnato sposato sembra che lui solo guadagno e poi quando torna a casa nessuno non gli chiede come lui sta insomma si sente solo si vede mancanza di amore nei suoi confronti ok cos'altro succede nella tua casa sì secondo me lui ha accompagnato lui ha qualcuno un rapporto e in questo rapporto non è felice vedete come si vede una donna e qui energia di qualcun altro potresti potresti essere tu visto tu che guardi energia di un'altra persona qui parliamo di un incontro karmico incontro destinato una condizione del tipo telepatia una condizione d'animo importante vediamo se questa donna sei tu imperatore girato un attimo non mi fanno vedere chi è questa donna sì io io questa persona la vedo impegnata la donna non mi fanno vedere ma mi fanno vedere che è lui sente richiamo richiamo di un forse anima gemela di un qualcuno molto importante richiamo un incontro non so se sono già incontrati è come che sente che sente lo sai come la domanda era come lui si sente nella casa sua si sente solo e sembra che c'è un altro richiamo insomma sembra come che la sua vera anima gemela lo sta chiamando lo sta aspettando e lui sente un richiamo come che lui dovrebbe essere altrove lui dovrebbe essere d'altra parte non lì dove sta insomma così chi è questa persona che lo sta chiamando re di denaro un uomo non mi fanno vedere allora chi lo sta chiamando lui stesso si sta svegliando e capisce che non è felice e la vita bisogna cambiare questi dieci di spade che lui sta in crisi e che è tutto bloccato e bisogna dare una svolta alla vita lui stesso lo capisce e sembra che lo sta chiamando un qualcosa non lo so cosa perché non mi fanno vedere ok andiamo a chiedere come ti vede cosa pensa e cosa prova come ti vede cosa pensa di te e cosa prova come ti vede come una bambina sognatrice nel mondo delle meraviglie nel mondo delle meraviglie io questo è lui qualcosa si ma o voi non vi conoscete bene o lui ti capisce poco perché ci sono tanti pensieri e illusioni e poca chiarezza tra di voi lui è venuto con energie tristi come che non si può non posso non si può che lui dovrebbe fare qualcosa ma non si può e tu sei quella donna dignitosa che non farà non farà niente insomma deve fare lui e tu tipo non fare niente e lui capisce bene che dipende da lui diciamo che ti stai delisando perché tu le stai dando fiducia tu provo che lui sente una fiducia nei tuoi confronti la sensazione di casa la bambina perché bambina ma magari tu ti lai figli non lo so non lo so che c'entra bambino o lui ha figli perché mi sta dicendo che bisogna investire in bambino di chi è questo bambino io non lo so investire in bambino e io non posso non posso o lui non può investire in tuo bambino o magari tu sei bambina lui non può darti quello che vuoi tu magari come un tuo capriccio oppure qua ci sono i bambini e qualcuno dice io non posso perché è bambino non lo so secondo me lui è impegnato ragazzi voglio tanto vederti ma non posso queste carte del destino dell'incontro destinato secondo me sei tu quella energia che lo sta attirando energia che lo attira verso qualcosa di nuovo che cosa lui prova per te l'emozione non vedi denaro prima di tutto tu le piace tanto fisicamente sei perfetta sei per lui fisicamente resina di coppia ok 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 sembra donna bambina lui vedente e donna e bambina cosa prova per te non so non so come chiamarlo adesso tu lo fai felice o quando lui ti vede si sente felice o tu la tua energia è un'energia di felicità che gli stai dando la felicità c'è la felicità c'è una sensazione di sentirsi a casa di nuovo dico sensazione di conoscere da sempre come che siete conosciuti già siete incontrate di già non si sa quando o in questa vita o nella vita precedente ma c'è questa sensazione e poi c'è questa forse un po sua paura perché sembra che lui si chiude da te come si chiude per dire non posso è troppo è troppo lei troppo o qualcosa della parte tua lei troppo o qualcosa della parte tua ma perché secondo me lui impegnato ragazzi perché come che lui ha già fatto la sua scelta oppure lui ha fatto scelta di dedicare il suo tempo sul lavoro qualcosa così progetti magari lui vuole partire andare via lontano insomma qualcosa così e di conseguenza non può non può fermare con te qualcosa così come che lui ha già fatto la sua scelta e non si può comunque le tue energie sono energie molto importanti perché si vede bene che tu lo stai attirando al livello animico di anima quindi non sono energie superficiali sono più profondi come c'è come che c'è questa connessione tra di voi quando ti sembra di conoscere dentro come quando tu guardi una persona dice io ti conosco io conosco come sei fatta dentro tipo non so qui può essere che vi siete visti un paio di volte ma sembra che come esempio lo sto dicendo non lo so quante volte siete visti però c'è questa sensazione che io so tutto di te ti conosco ti vedo come sei fatta insomma in questo modo ok vediamo cosa lui pensa di fare e cosa farà cosa si può aspettare cosa pensa di fare proprio pensa molto concentrato pensa su cosa fare scappato la carta in silenzio sta silenzioso e pensa al lavoro dove lui sta e pensa ok cosa pensa di fare nei confronti di mia ragazza ecco iniziamo ai 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 half conflitto non devo pensare lui vuole parlare con te però dice non melo no non si può perché ha famiglia famiglia di qualcuno insomma vuole parlare con te cosa vorrebbe dirti Ho paura di parlare con lei Cosa ti può fare la ragazza? Mi può rispondere Lui vuole parlare con te Però ha paura Ha paura Della tua risposta Ok Di quale risposta hai paura? Se risponde Che tu lo mandi alle stelle Tipo hai paura di essere rifiutato O qualcos'altro Sì ha paura di Che tu puoi reagire in modo freddo Nei suoi confronti Che può essere fredda Ha paura della tua lezione Ok E cosa vorresti parlare? Cosa vorresti dire? Tre carte Vigina di bastone Il girasole Tre di denaro Cavaliere di bastone Che lui sta aspettando l'incontro E che tu lo stai ispirando E che sei molto bella E questo incontro Io non lo so Dove potete avere a voi questo incontro Ma vorrebbe dire questo Perché sei molto bella? Perché qua il girasole E qua il narciso vedo Disegnato Mi è venuto proprio Che sei molto bella Devi sapere che sei molto bella E che ti vuole vedere Sta aspettando l'incontro Ok Andiamo a vedere cosa lui farà Dirà lui questa cosa Scriverà Parlerà Te dirà Cavaliere di coppe No Che terrore Guardate Voglio ma ho paura E anche qua Iguale Energia simile Molta Ha paura lui Vedete Dice mi devo concentrare Oddio ho rovinato tutto Mi devo concentrare Devo resistere No Guarda Andata male Andava bene prima Andata male E ha paura lui No Alla fine Tipo Concentrati Non essere straccio E si allontano E se ne va in remita Aspettare qualcosa E non fa Non fa quello che vuole fare Almeno adesso Si vede In più Vedete questo mago Con il diavolo Sembra che Come una voce Dentro di lui Una voce malefica Che gli dice Non vale la pena Non farlo più Deve essere orgoglioso Basta inginocchiare Una cosa così O inginocchiare Nei tuoi confronti O come abbiamo visto Che lui si è inginocchiato Tanto nella sua vita E Gli dicono Basta non farlo più Questa voce E lui dopo Si ferma E si allontana È finita la camedia Ma qua stava già arrivando Guardate Con la coppa Stava già Stava per fare Ma perché si vede così male Si vede malissimo Vediamo un'occhiata Qualcosina qua Si può Succedere E poi alla fine Più tardi Dipende tutto da lui Perché lui Vedi tu Potresti essere anche Pronta di ricevere I suoi messaggi Parlare con lui Insomma Dipende da lui Perché lui molto Magari lui parla poco Pensa tanto Parla poco O insomma Lo vedo così Parlare poco Pensare tanto Penserà tanto a te Ma concentrato Però parlerà poco Insomma Per adesso è così Io ho finito Raccontate come vi siete trovati Mettete like Io adesso suono la campana E vi saluto già adesso Ciao Ciao Ciao